Vado a fare spesso a chi fa lo stacco rumeno, il Romanian deadlift, è quello di inarcare la schiena e non finire mai una ripetizione, quindi fondamentalmente vanno giù, vengono su e rimangono con un leggero tilt anteriore del bacino, ok? Quindi di fatto i femorali vengono allungati ma il gluteo non viene mai allungato, accorciato in modo appropriato, quindi una cosa che ti consiglio di fare è quella di strizzare bene i glutei in cima e poi andare in antiversione del bacino mentre scendiamo, non sto parlando di un'eccessiva antiversione, parliamo sempre di una schiena in posizione neutra, di fatto abbassare il mento ti aiuta a mantenere quella tensione e quella posizione neutra nella parte lombare della schiena, mentre veniamo su calciamo il pavimento all'indietro e andiamo a strizzare bene i glutei in cima